Il vertice della NATO a Washington è iniziato nei migliori dei modi per l'Ucraina. Gli Stati Uniti hanno infatti annunciato che i jet F-16 promessi sono già partiti dalla Danimarca e dai Paesi Bassi e dentro l'estate saranno operativi sui celli di Kiev per respingere gli attacchi della Russia. Una garanzia per Volodymyr Zelensky presente nella capitale americana anche se non al vertice, assieme agli altri 40 miliardi di euro in assistenza finanziaria e alla sicurezza che gli alleati dell'Alleanza Atlantica sono pronti ad assicurargli. Il padrone di casa Joe Biden, che conta sul vertice per i 75 anni della NATO anche per voltare pagine e convincere partner ed americani di essere pronto a guidare gli Stati Uniti per un secondo mandato, ha assicurato che Kiev può e fermerà Vladimir Putin. Mentre il segretario di Stato Antony Blinken ha sottolineato che l'invio dei jet è un segnale al leader del Cremlino. Zelensky prima ha espresso soddisfazione, poi parlando alla Reagan Foundation ha incalzato che di F-16 ne servono almeno 128 per uguagliare la Russia nei cieli. Il segretario uscente dell'Alleanza Jens Stoltenberg ha detto di essere convinto che da questa tre giorni nella capitale americana arriveranno aiuti sostanziali a Kiev, frutto di un piano elaborato da mesi per garantirle l'assistenza a lungo termine dell'Occidente anche in caso di un eventuale cambio di leadership alla Casa Bianca. E anche il neo-premier britannico e il suo debutto internazionale ha assicurato a Zelensky il sostegno incrollabile del Regno Unito, come d'altra parte la premier italiana Giorgia Meloni, che ha promesso un secondo sistema difensivo Samp-T. Un fronte compatto quindi, quello formato dai 32 leader riuniti a Washington, almeno per quanto riguarda l'assistenza militare. Altra questione è l'adesione alla Nato, su cui alcuni paesi hanno ancora delle riserve per il rischio che comporterebbe avere un partner quasi sempre in conflitto con una potenza nucleare come la Russia. Per ora Zelensky incassa l'accordo di Massima sull'irriversibilità del processo, anche se non è ancora chiaro se nella dichiarazione finale sarà specificata una data o una scadenza. Quello che invece sarà esplicitato secondo fonti diplomatiche che hanno parlato con i reporter sarà l'ennesimo monito alla Cina di interrompere il suo sostegno a Mosca. Pechino, in quanto membro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, deve smettere qualsiasi forma di sostegno politico e materiale al Cremlino, si legge nella bozza nella quale si sottolinea inoltre che il dragone costituisce un pericolo per l'Europa e la sicurezza. Nella dichiarazione finale sono nominati anche gli altri nemici del patto, dalla Corea del Nord all'Iran, e viene disegnato un inviato del Sud per il Medio Oriente per l'Africa. Una buona notizia per Roma, tanto che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha lanciato la candidatura proprio dell'Italia per ricoprire questo ruolo, mettendo a disposizione nomi di alto livello. Alla fine di una giornata di lavori tre cene, una offerta da Biden nella First Lady alla Casa Bianca, una da Blinken per i ministri degli esteri e infine quella dei ministri della difesa con il capo del Pentagono Lloyd Austin. La pressione è alta sul commander in chief, che vuole approfittare di tutte le occasioni a sua disposizione in questi tre giorni per dimostrare in patria all'estero di non essere l'81enne fragile e confuso degli ultimi tempi. Anche tra i leader stranieri presenti a Washington, infatti, dopo il disastroso dibattito televisivo, è aumentato lo scetticismo sulle sue capacità di leadership e soprattutto sulla sua forza di battere Donald Trump, non certo un amico dell'alleanza, mentre in casa Biden è stato mollato persino dalla storica alleata ecoetanea Nancy Pelosi. Per non parlare del colpo sferrato dal democratico George Clooney, che lo ha invitato a farsi da parte dopo mesi di tensioni con la Casa Bianca per via dell'impegno della moglie con la Corte Penale Internazionale.